È uno sguardo femminile verso il mistero quello che Paola Ceccarelli racconta nelle sue opere. Dalla creta, materia povera e ricca di fascino, nascono le sculture dell'artista riminese che, insieme ad alcuni dei suoi disegni ai dipinti di Americo Mazzotta, sono esposti a Castel Sismondo di Rimini. Ho guardato attentamente il movimento del mare fino a intuire se la conchiglia che sta nel mare è fatta così e lui che è la modella e quindi devo imparare un gesto, un movimento, che è quello dell'onda che va verso riva e della risacca che la contrasta, in questo contrasto l'acqua sale e forma il recciolo. Quindi ho abbandonato gli attrezzi, seguendo la materia, la creta, la porto a emergere, a venire la luce. Un percorso espositivo tra umane e divino che incontra e si fonde con l'opera pittorica di Americo Mazzotta, maestro di Paola Ceccarelli, un artista di origine toscana che, nel suo fare arte, va in cerca della dimensione della memoria. Tra le opere in esposizione è la riproduzione dell'affresco della battaglia di Lepanto, dipinto per una chiesa milanese, e il bozzetto che ha ispirato il monumento funebre di Alberto Marvelli, realizzato dalla Ceccarelli nella chiesa di Sant'Agostino a Rimini. Con Francesco Baldi ho fatto il disegno al quale, come dire, bisognava ispirarsi. Sono fiero di non aver fatto, come dire, di aver avuto un'intuizione, cioè di appoggiare tutto sulla giacca di Marvelli, che aveva questo gesto, perché quando rimaneva senza soldi, poi dava la giacca, e tornava sempre a casa in camicia fra le lamentele di sua madre. Questo mi ha colpito e mi ha permesso anche di risolvere proprio plasticamente la questione, su questo sfondo di una Rimini distrutta dai bombardamenti.